Oggi abbiamo deciso di chiudere simbolicamente con dei teli neri, l'aula studio Verdi, la residenza Olimpia e la mensa del campus Einaudi perché se la regione non decide di aumentare i finanziamenti al diritto allo studio e non decide di stanziare 6 milioni di euro in più in questo bilancio rischia di essere oscurato il diritto allo studio nella nostra regione. La nostra regione rischia di ritornare nella lista nera delle regioni che non garantiscono il diritto allo studio e i servizi oltre alle borse di studio rischiano di essere tagliati. L'anno scorso faticosamente siamo riusciti a raggiungere il 100% di copertura delle borse di studio per la prima volta del 2010. Quest'anno questa percentuale rischia di scendere nuovamente sotto il 60% se non ci saranno nuove risorse e tra i servizi delle disu le mense sono il primo servizio che rischia di essere tagliato perché i contratti di gestione di queste mense scadono l'anno prossimo a giugno e se non ci sarà certezza sull'erogazione delle risorse da parte della regione il rischio di un taglio di questo servizio è più che concreto.